Il mistero e il segretario dietro l'hypnosi non verbale e le mesmerie. I risultati dei miei risultati, per voi, per il tuo sviluppo personale, per la tua vita e per diventare un professionale con i risultati più alti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio